Ciao a tutti! Continuiamo con Trapcode Particular. Oggi vedremo come sostituire le particelle standard di Particular con oggetti personalizzati creati e preparati da noi. In questa lezione useremo come esempio alcuni disegni preparati da me. In particolare userò questi pesci colorati e una sequenza di fotografie. Queste qua. E se anche voi volete usare gli stessi file che userò io ovviamente li potete scaricare dal link che trovate nella pagina del tutorial. Benissimo torniamo in After Effects. Per prima cosa resettiamo di nuovo i parametri dell'effetto quindi clicchiamo sul bottone Reset qua su in alto. Benissimo. Chiudiamo momentaneamente la sezione Emitter dell'effetto e apriamo la sezione Particle dove ci sono i parametri che ci interessano oggi. Per prima cosa magari di nuovo ingrandiamo un po' la dimensione delle particelle quindi aumento il parametro Size più o meno così e ci concentriamo appunto sul parametro Particle Type che decide l'aspetto vero e proprio delle particelle. Come abbiamo visto nell'introduzione ci sono delle forme già pronte all'interno di Particular e le rivediamo un attimo velocemente che sono la sfera, la sfera con un alone di bagliore intorno, la stella a quattro punte. Con Cloudlet tutte le particelle hanno questa forma irregolare e soprattutto ogni particella ha una forma diversa dalle altre. Poi abbiamo Striclet con quale tutte le particelle hanno sia ancora una forma irregolare però sono tutte quante uguali. Poi abbiamo queste voci che vanno da Sprite fino a Textured Polygon che ci interessano proprio in questa lezione perché grazie ad esse possiamo sostituire le particelle con particelle che vogliamo noi quindi le vediamo tra un attimo e poi abbiamo ancora Square che ovviamente sono delle particelle quadrate e Circle che sono dei semplici cerchi. Bene diciamo che a parte le particelle Sfera e Cloudlet che possono comunque essere utili in molte situazioni le altre forme sono sicuramente poco interessanti mentre invece l'effetto Particular diventa davvero interessante quando usiamo delle particelle personalizzate create da noi e iniziamo per esempio usando uno dei disegni che ho preparato. La procedura è questa. Andiamo nella finestra Progetto e scegliamo l'oggetto che vogliamo usare. In questo caso scelgo il pesce azzurro. La prima cosa da fare è prendere questo elemento e inserirlo all'interno della timeline quindi lo prendo e lo aggiungo qua. Benissimo come vedete il pesce è ben visibile. La prima cosa da fare è far sì che però non sia visibile nella timeline quindi spegniamo il pulsante con l'occhiolino qua a sinistra nella timeline. Quindi ripetiamo l'elemento da usare lo inseriamo nella timeline ma facciamo sì che non sia visibile. Poi riselezioniamo il livello che contiene Particular, riattiviamo la finestra Effect Controls e dal menu Particle Type attiviamo una di queste opzioni qua da Sprite a Texture Polygon. Incominciamo dalla prima e vediamo cosa succede. Quindi scelgo Sprite. A questo punto le particelle originali, le sfere, sono sparite. Ora tocca a noi associare alle particelle il disegno del pesce azzurro e per farlo scendiamo un po' più in basso nei parametri e apriamo la sezione Texture. A questo punto dal menu del parametro Layer, questo, scegliamo il livello che vogliamo usare come particella e quindi in questo caso pesce azzurro. Benissimo. A questo punto al posto delle sfere bianche abbiamo i pesciolini azzurri. Magari per vederli meglio li ingrandiamo un po' di più quindi aumentiamo il parametro Size o portiamo più o meno a 80. Magari facciamo sì anche che i pesci abbiano dimensioni diverse, quindi aumentiamo anche il parametro Size Random, magari del 50%, così abbiamo dei pesci un po' più piccoli e dei pesci un po' più grandi. E siccome non si distinguono bene gli uni dagli altri magari diminuiamo la quantità dei pesci. Quindi andiamo per un attimo nella sezione Emitter e diminuiamo Particle Second 10 penso che possa andare bene. Come vedete i pesci nascono dal centro e a un certo punto dopo qualche secondo spariscono. Ecco magari facciamo sì che rimangano in scena più a lungo quindi aumentiamo anche i secondi di vita dei pesci. Al momento i pesci vivono soltanto 3 secondi aumentiamolo magari a 10 in modo che i pesci rimangano visibili per tutta quanta la durata della composizione. Benissimo. Torniamo un attimo al menu di Particle Type e vediamo rapidissimamente anche la differenza che c'è tra Sprite e Sprite Colorize e Sprite Fill. La differenza è questa che se scegliamo la modalità Sprite non possiamo cambiare il colore ai pesci. Tanto è vero che se andiamo a vedere il parametro che gestisce il colore qua giù in basso come vedete non è attivo e grigio non è possibile cambiare il colore alle particelle. Mentre invece se scegliamo Sprite Colorize immediatamente tutte le particelle vengono completamente decolorate però ora abbiamo a disposizione il parametro Color e se cambiamo dalla palette colore il colore da bianco a per esempio rosso vedete che tutti quanti i pesci vengono ricolorati di rosso oppure con il colore che scegliamo. Quindi Sprite Colorize rispetto a Sprite ha questa possibilità in più. Ovviamente perdo i colori originali dell'oggetto e addirittura se scelgo l'opzione successiva cioè Sprite Fill i pesci vengono completamente ricolorati di bianco quindi perdiamo completamente i dettagli del disegno. Ovviamente possiamo cambiare il colore bianco con qualsiasi altro colore però ripeto in questo caso abbiamo completamente perso il disegno originale del pesce. C'è rimasta soltanto la forma e quindi ripeto ancora la differenza tra Sprite, Sprite Colorize e Sprite Fill sta nella possibilità di ricolorare o meno l'oggetto che si usa come particella. Diciamo che quasi sempre si preferisce l'opzione Sprite cioè quella che lascia i colori originali invariati quindi rimettiamo di nuovo su Sprite. Una cosa che però diventa importante quando usiamo le particelle personalizzate come in questo caso è la possibilità di riorientare le particelle cioè ruotarle sul proprio asse in direzioni che vogliamo noi e quindi abbiamo un poco più in basso di texture una sezione Rotation all'interno della quale ci sono appunto i parametri di rotazione della particella cioè rotazione x y e z ma se vedete bene i due primi parametri rotazione x e y non sono disponibili cioè non è possibile ruotare il pesce verticalmente o orizzontalmente è possibile soltanto ruotarlo intorno al suo asse z e quindi posso soltanto riorientarlo in questo modo qui e questo succede perché nella modalità Sprite tutte quante le particelle sono sempre automaticamente rivolte verso la camera. Se orbitiamo in Custom View lo vediamo bene. Vedete che in qualsiasi posizione io mi metto nello spazio i pesci sono sempre rivolti verso di me non posso ruotarli sul proprio asse in alte direzioni. Posso appunto come ho visto prima soltanto ruotarli in questa direzione qua ma non verticalmente e orizzontalmente. Se invece voglio avere questa possibilità di ruotarli anche orizzontalmente e verticalmente allora devo usare l'opzione successiva che è Textured Polygon. Proviamo ad attivarla. A questo punto i pesci non si rivolgono automaticamente verso di noi ma rimangono sempre in una direzione fissa però in questo caso qui posso anche riorientarli orizzontalmente se agisco sulla rotazione X in questo modo qua oppure ruotarli intorno all'asse Y in questo modo qui. Quindi ripetiamo se usiamo la modalità Sprite la particella è sempre automaticamente rivolta verso di noi verso la camera. Se invece usiamo l'opzione Textured Polygon allora la direzione la decidiamo noi agendo su tutti i tre parametri di rotazione X, Y e Z. E oltre a questo è possibile anche orientare ogni particella automaticamente lungo il suo percorso cioè al momento i pesci vanno in tutte le direzioni però come vedete qua sono sempre orizzontali e non sono automaticamente diretti nella direzione del loro movimento cioè i pesci che vanno verso l'alto non hanno il muso rivolto verso l'alto sono sempre tutti quanti rivolti a sinistra. Se vogliamo invece che si orientino automaticamente nella direzione che prendono quando nascono allora possiamo attivare il parametro orient to motion che al momento è su off. Proviamo ad attivarlo quindi metterlo su on. Come vedete a questo punto ogni pesce è orientato automaticamente nella direzione del suo movimento. In questo caso però sono orientati di coda ma noi ovviamente possiamo correggere la direzione di partenza agendo sui parametri della rotazione della particella. In questo caso per esempio ci basterebbe ruotare tutti quanti i pesci sul loro asse Y in modo che li ribaltiamo. In questo caso particolare il valore corretto è 180 gradi. E adesso come si vede bene ogni pesce è orientato automaticamente nella sua direzione. I pesci che vanno verso l'alto sono rivolti verso l'alto, chi va a destra è rivolto a destra, chi va a sinistra è rivolto a sinistra eccetera. Bene prima di proseguire magari facciamo in modo che tutti i pesci si muovano allo stesso modo all'interno della scena. Anziché nasce da un punto e andare in tutte quante le direzioni facciamo sì ad esempio che attraversino la scena da destra a sinistra. Quindi un po' come nell'esempio della lezione precedente per la pioggia. Basterebbe usare come generatore un box messo a destra qui fuori dalla composizione che spara tutte quante le particelle verso sinistra. Quindi torniamo di nuovo ai parametri della sezione emitter. Impostiamo come tipo di emitter box. Ecco fatto. Ma ancora i pesci nascono dentro il box però vanno liberamente in tutte le direzioni. Invece vogliamo che vadano tutti nella stessa direzione e per far questo dobbiamo agire sul parametro successivo direction e cambiare la modalità da uniform a directional. Benissimo a questo punto tutti i pesci si mettono in direzione dell'asse z cioè si allontano dalla camera verso l'infinito mentre noi invece vogliamo farli andare tutti quanti verso sinistra. Quindi dobbiamo ruotare il box verso sinistra. Quindi agiamo sul parametro y della rotazione del box e ruotiamo il box verso sinistra. In questo caso meno 90 gradi. Benissimo. Ora i pesci si muovono tutti verso sinistra. Adesso modifichiamo un po' le dimensioni di questo box. Lo rendiamo un poco più alto in modo che i pesci occupano tutta l'altezza della composizione. Quindi scendiamo più in basso ai parametri che gestiscono la dimensione del box. Innanzitutto facciamo in modo da gestire indipendentemente altezza larghezza e profondità del box attivando questa seconda opzione qui e abbiamo detto che vogliamo un box un po' più alto quindi aumentiamo l'altezza del box così penso che possa bastare e magari diminuiamo anche lo spessore. Non ci serve un box così profondo quindi quasi lo azzeriamo. Ora non dobbiamo fare altro che mettere questi pesci fuori dall'inquadratura destra. Per farlo spostiamo il box con il parametro position più o meno qui in modo che al tempo zero i pesci nascono fuori e poi si mettono nell'inquadratura. Chiaramente si capisce subito che si muovono troppo lentamente quindi aumentiamo anche la velocità delle particelle facciamo intorno ai 500 e a questo punto se facciamo una preview tutti i pesci entrano nell'inquadratura e attraversano la scena da destra a sinistra. Benissimo proseguiamo. Se volessimo mantenere questa impostazione di Particular ma avere come particelle quattro tipi diversi di pesci anziché uno solo dobbiamo però preparare le particelle in un modo diverso. In questo caso dobbiamo inserire i quattro pesci che vogliamo usare come particelle in una composizione a parte e poi prendere quella composizione e inserirla nella timeline e associarla all'effetto Particular. Quindi la procedura è questa. la prima cosa abbiamo detto creiamo una composizione nuova quindi Composition New Composition e possiamo chiamare questa composizione semplicemente pesci. La creiamo quadrata di una dimensione non troppo grande in questo caso già impostato 500 per 500 che può andar bene e come durata possiamo lasciare 5 secondi come è impostato qui e diamo l'ok. Poi prendiamo i quattro disegni che vogliamo usare come particella e li inseriamo dentro quindi li seleziono tutti e quattro li prendo e trascino nella timeline. Però per essere letti correttamente dall'effetto Particular non devono essere visibili contemporaneamente tutti e quattro ma bisogna far sì che ogni fotogramma di questa composizione contenga un solo pesce. Quindi innanzitutto accorciamo la durata di questi quattro pesci in modo che durino soltanto un frame. Quindi accorciamo il margine destro fino all'inizio così in modo che adesso tutti e quattro i pesci durino un fotogramma. E ora mettiamo in fila questi fotogrammi in modo che abbiamo uno dopo l'altro i quattro pesci. Quindi prendo il secondo pesce e lo sposto qui, prendo il terzo pesce e lo sposto qui, prendo il quarto pesce e lo sposto qui. Quindi come dicevo prima ho fatto sì che ogni frame contenga solo un disegno. E come ultima cosa bisogna far sì che la composizione duri esattamente quanto la somma dei frame. Quindi dobbiamo accorciare la durata della composizione a quattro frame. Per farlo anziché aprire di nuovo i settings e impostare quattro frame possiamo fare in questo modo qui. Accorciamo la barra della preview fino all'ultimo frame in questo modo qui e ora ci mettiamo sopra la barra della preview e clicchiamo con il tasto destro e da questo menu che si apre scegliamo la terza voce trim comp to work area. Proviamo. E a questo punto la composizione si accorcia esattamente della stessa durata della barra della preview. Quindi ricapitoliamo. Ho preparato una composizione all'interno della quale ogni fotogramma contiene un disegno diverso. Benissimo. Ora possiamo usare questa composizione pesci come particella nell'effetto particolar. Quindi riapriamo la composizione di prima questa prendiamo la composizione pesci la aggiungiamo nella timeline esattamente come abbiamo fatto prima per il pesce azzurro. Eccola qui all'inizio che dura soltanto quattro frame. Come abbiamo fatto per il pesce azzurro dobbiamo rendere la composizione invisibile quindi spegniamo l'occhiolino qui a sinistra. Torniamo su particular. Riattiviamo di nuovo la finestra controllo effetti. Torniamo di nuovo nella sezione texture e nel menu di layer questa volta scegliamo il livello pesci e vediamo cosa succede. Ora abbiamo come particelle tutti i quattro pesci solo che purtroppo ogni particella fa vedere in loop tutte e quattro i pesci. Come si vede per esempio nel primo mentre avanzo nella timeline ogni fotogramma cambia il pesce. In loop si ripetono sempre tutti e quattro e questo succede a tutte quante le particelle. Mentre invece noi vogliamo che ogni particella scelga uno dei quattro pesci e mantenga quello. E per far questo noi dobbiamo cambiare l'impostazione del parametro successivo a layer cioè time sampling che al momento è impostato sull'opzione random loop. Infatti ogni particella manda in loop tutte quante le particelle mentre noi abbiamo molte altre opzioni da cui scegliere. E tutte quante queste opzioni le vedremo dettagliatamente nella prossima lezione che dedicheremo alle particelle animate. Mentre nel caso di oggi a noi serve soltanto questa qui random still frame. Proviamo. E questa opzione come vedete anziché mandare in loop tutti i frame della composizione ne sceglie uno e mantiene quello. Quindi ripetiamo nel caso in cui vogliamo associare delle particelle un gruppo di oggetti diversi non basta creare una composizione con dentro i diversi oggetti ma bisogna anche cambiare l'impostazione di questo parametro time sampling e in questo caso scegliere l'opzione random still frame. Benissimo. Ora voglio farvi vedere che in alternativa alla composizione che contiene i fotogrammi delle diverse particelle c'è un modo anche più semplice e rapido per preparare la messa in fila di particelle soprattutto quando le particelle sono tutte grandi uguali. E questo metodo consiste nel preparare gli oggetti con lo stesso nome e dargli un numero progressivo e poi importarli come un'unica sequenza. E come esempio proviamo a importare la sequenza di fotografie che ho preparato. Quindi torniamo nella finestra progetto. Per avviare l'importazione basta fare un doppio clic qui in un punto vuoto della finestra. Quindi doppio clic. vado nella cartella che contiene la sequenza di fotografie. Seleziono la prima foto foto 00. Non occorre che le seleziono tutte. Spunto la voce png sequence e avvio l'importazione. A questo punto tutti i fotogrammi diventano un unico filmato. Eccolo qua. Se ci faccio doppio clic come vedete ho un video i cui fotogrammi sono le varie fotografie. Benissimo. A questo punto non devo fare altro che prendere questo video, inserirlo nella timeline e associarlo a particular. Proviamo. Lo prendo. Lo metto nella timeline. Eccole qui. Come al solito la prima cosa che faccio è spengo l'occhiolino. Le rendo invisibili. Riattivo di nuovo particular. Torno nella finestra del controllo effetti. E dal menu layer collego particular alle foto. Bene. E ora al posto dei pesci ho le fotografie. Quindi per preparare un gruppo diverso di elementi da usare come particelle le posso preparare in after effects creando una composizione mettendo in fila i vari elementi oppure se li preparo prima nominandoli tutti allo stesso modo con numero progressivo durante l'importazione possono diventare un unico file video che può essere usato direttamente dall'effetto particular. Benissimo. Prima di finire voglio aggiungere una cosa. Che particular al suo interno possiede una ampia libreria di elementi grafici e fotografici già pronti che possono essere usati come particelle. E per poterli visionare e scegliere basta cliccare sul pulsante choose sprite che abbiamo qui subito dopo il parametro particle type. Questo qui. Se ci clicchiamo sopra come vedete si apre una finestra che contiene decine e decine di elementi grafici già pronti e anche di elementi fotografici in questo caso elementi già scontornati eccetera eccetera. E per associare uno di questi elementi all'effetto particular basta selezionarlo e dare l'ok qua sotto. Proviamo ad esempio con questa freccia quindi la seleziono e poi clicco sul pulsante ok. Come vedete istantaneamente ho sostituito le fotografie di prima con questo nuovo elemento. Però in realtà andiamo a vedere cosa è realmente successo quando ho cliccato sul bottone ok. Torniamo un attimo alla finestra di progetto. Vedete che all'interno di questo progetto è stato importato quell'elemento che ho scelto prima che è questo basic arrow e non solo questo oggetto è stato inserito nella timeline qua sotto vedete e se torniamo in particular e nei suoi parametri notiamo che adesso nel menu del parametro layer è associato il nuovo elemento eccolo qua. Quindi nel caso di un elemento della libreria di particular tutta quanta la procedura viene automaticamente benissimo. In questo caso le frecce però come vedete non sono rivolte correttamente verso sinistra quindi dobbiamo correggere la rotazione z delle particelle e in particolare di 90 gradi in questo modo qui. Benissimo e magari cambiamo anche il colore a queste frecce ma al momento come vedete qua sotto non abbiamo a disposizione l'opzione colore e questo perché al momento è impostato su texture polygon. Però lo stesso modo di quello che succedeva per sprite abbiamo altre due opzioni texture polygon colorize e texture polygon fill per poter ricolorare le frecce. In questo caso scegliamo texture polygon a questo punto si attiva il parametro color e siamo liberi di cambiargli il colore per esempio rosse e se vogliamo possiamo dare anche un po' di variazione al colore aumentando il parametro color random così abbiamo anche delle frecce di diversi colori. Benissimo con questo ultimo esempio per oggi finiamo qua. Nella prossima lezione vedremo come si comporta particular se usiamo come particelle degli elementi animati o addirittura dei video. E quindi alla prossima. Ciao!